Ci troviamo nel parcheggio in località Spinelli ad oltre Senda Alta, da dove parte in pratica la strada per il Moschel, strada che per due settimane sarà chiusa perché è in corso un intervento di sistemazione. Sì, un intervento di sistemazione che era già previsto l'anno scorso, per la verità, che poi abbiamo dovuto spostare a questa primavera. È un intervento fatto dalla località Cassinel, quindi diciamo la deviazione per le cascine della costa sono libere, quindi la gente che abita lì può andarci, mentre da Cassinelli in su abbiamo circa un 300 metri di strada che creava sempre dei grossi problemi di accumulo proprio di acqua, diventava un torrente per cui bisognava metterci il rimedio. Diciamo che ci siamo riusciti, ci stiamo riuscendo, quindi verrà realizzata una strada in battuto di calcestruzzo, larga circa 2,70 metri, spessore 15-20 centimetri con rete elettrosaldata, quindi un lavoro fatto come in Colle Palazzo sulla parte peggiore di un tratto molto in pendenza e ha dato ottimi risultati e quindi faremo la stessa cosa qui e sono sicuro che non ci saranno problemi per i prossimi almeno 30 anni, quindi per quel pezzo di strada. Poi se sarà possibile fare qualcos'altro vedremo di farlo perché praticamente tutti i permessi che vengono utilizzati sulle strade agrosilvopastorali vengono poi, praticamente i soldi vengono devoluti per la sistemazione delle strade stesse, per cui diciamo che qualcosina tutti gli anni si riesce a fare. È un lavoro un po' lungo però diciamo che col tempo si potrebbe arrivare in fondo, anche se la mia idea partita 5 anni fa era quella che al Moschel bisognerebbe arrivare con una strada asfaltata per poi dare la possibilità a tutte le baite di essere gestite in modo corretto visto che siamo nel 2017 e non nel 1800, però questo per ora è stato impossibile da farsi, comunque qualcosina si fa. Abbiamo detto due settimane circa per finire i lavori. Sì, diciamo che dipende molto dalla natura, nel senso che se il tempo si mantiene come ora sicuramente dovremmo farcela in una quindicina di giorni e questo direi consente poi di utilizzare tutta la stagione. Cioè il periodo migliore poteva essere 20 giorni fa ma la neve non ci consentiva di lavorare, la neve è andata via da pochissimo e quindi siamo partiti immediatamente per creare il meno disagio possibile a chi poi salirà alle baite del Moschel e poi col tempo saliranno alle malghe i contadini con gli animali e così. Quindi questo dovrebbe essere un problema risolto. C'è poi un altro lavoro che vorrebbe chiudere prima della fine del mandato, questa volta siamo a Colle Palazzo. Sì, praticamente anche questo è un lavoro che è stato preparato l'anno scorso, poteva essere fatto prima dell'inverno, non ci siamo riusciti. Comunque a Colle Palazzo dove è stata fatta una piccola variante della strada, praticamente proprio sul Colle, verrà fatto una specie di, chiamiamolo parcheggio, oppure chiamiamolo una grande piazzuola di scambio che servirà sia per le jeep che ogni tanto salgono e che le lasciano un po' dappertutto e invece verranno posizionate in questo, chiamiamolo parcheggio, che però avrà anche uno scopo importante per quanto riguarda quelli che operano sui boschi in modo che possano lasciare il trattore, quindi girare, fare manovra senza rovinare ulteriormente i prati che francamente è bene tenerli come sono.